Adesso dobbiamo dimostrare la correttezza dell'algoritmo dal punto di vista dell'ottimalità, ovvero alla fine vogliamo dimostrare che il flusso che ottengo è effettivamente il flusso massimo all'interno di questa rete. Vi faccio anche dei dettagli perché in questa dimostrazione entra in gioco un ulteriore aspetto che è quello del taglio, perché in realtà questo problema, quello del flusso massimo, è duale al problema del taglio minimo. Se vi ricordate all'inizio vi ho detto, avevo fatto vedere quella mappa dell'Europa dell'Est e vi avevo detto che gli americani cercavano di capire qual era la massima quantità di truppe che potevano essere trasportate da un punto all'altro, ma anche quali fossero i nodi da tagliare per portare a eliminare questa possibilità di tagliare truppe e volevano che il taglio fosse minimo, cioè che in qualche modo coinvolgesse il minor numero di nodi. Il problema è più complesso di così al solito, però adesso vi faccio vedere nella dimostrazione come entra in gioco. Allora, noi abbiamo già visto il concetto di taglio quando parlavamo di minimum spanning tree, gli alberi di copertura di peso minimo. E è la stessa cosa, solo che c'è quest'ulteriore specificazione qua, ovvero dividiamo i nodi in due sottogruppi disgiunti che tutti assieme formano l'intero insieme di nodi. Quindi abbiamo S, i nodi che stanno di qua, e V meno S sono gli altri nodi, oppure S uguale a V meno T, oppure T uguale a V meno S. Quindi quello che vedete qui è che questi, io rappresento il taglio con una figura, una retta tratteggiata, questi sono i nodi che appartengono a T grande, questi sono i nodi che appartengono a S grande, e ci assicuriamo che la sorgente sia sul lato di S e che il pozzo sia sul lato di T. Quindi vogliamo una partizione fra quello che c'è dal lato della sorgente e quello che c'è dal lato del pozzo. La capacità di un taglio è la somma delle capacità degli archi che hanno un estremo in S e l'altro estremo in T. Quindi guardiamolo nell'esempio. Qui c'è un arco che va da B ad E e ha un valore 3. Qui c'è un arco che va da C ad E e ha un valore 6. Qui c'è un arco che va da D ad E, quasi tutti sembrano andare in E, che ha un valore 2. E qui c'è però un arco da D verso F che ha un valore 3. E sono quelli evidenziati in rosso. Se ci fosse un arco, che ne so, da E verso il pozzo, così, non ci interesserebbe perché non va dal lato della sorgente al lato del pozzo. Quindi ci interessano solo quelli che vanno in quella direzione. E sommando i valori, abbiamo detto 6, 3, 2 e 3, si ottiene la capacità del taglio. E' un concetto abbastanza ragionevole se ci pensate, perché se avete dei tubi e i tubi fluiscono nella direzione delle frecce, vi domandate, posto un ipotetico confine, quanto riuscite a portare da un lato del confine all'altro lato del confine. Ok? E possiamo definire anche il flusso nello stesso modo. Vedete che è la stessa sommatoria, solo che stavolta stiamo valutando i flussi. Quindi ho aggiunto il valore del flusso e uno vede che ovviamente qua c'è 2, qua c'è 0, qua c'è 0, qua c'è 4, qua c'è 4, ma non ci interessa, scusate, l'ho evidenziato per sbaglio. E quindi il flusso totale è 6. Notate che se anche faccio così e guardo questo 2 più 4, ottengo 6. Ma anche se faccio così, ottengo 2 più 0 più 4 e ottengo 6. Ma anche se faccio così, ho questo 2 di nuovo, questo 4 di nuovo e ottengo 6. Infatti, il valore del flusso del taglio, dato un flusso F, qualunque sia, quindi non deve essere necessariamente ottimo, un flusso, e un taglio ST, la quantità di flusso che attraversa il taglio è uguale al valore del flusso, quindi quello che esce dalla sorgente. Il che è ragionevole, tutto quello che esce dalla sorgente finisce nel pozzo, qualunque sia il confine che pensate, la quantità di flusso che scorre attraverso quel confine deve essere uguale alla quantità di flusso che sta uscendo dalla sorgente, non va dentro e fuori in continuazione. Possiamo anche dimostrare formalmente, se non siete convinti, e questo ve lo faccio vedere anche perché questo trucchettino lo uso più e più volte. Allora, vedete, questo è il flusso da s a t, che abbiamo detto essere la sommatoria del valore del flusso, che ha un estremo, l'estremo iniziale in s e l'estremo finale in t, quindi x appartenente a s grande, y appartenente a t. Ora, sapendo che t uguale a v meno s, perché sono disgiunti e insieme formano v, noi possiamo, vedete la differenza qua, è che ho spezzato queste due parti. Siccome t uguale a v meno s, siccome qua c'era y uguale a t, ho spezzato nelle due sommatorie, e da un lato ho v intero, quindi adesso sto considerando tutto, ma gli ottengo i nodi che appartengono a s, sì, e quindi ottengo i nodi che appartengono a t. Solo che questo, per antisimmetria, sono tutte le coppie di nodi in s, sia in una direzione che nell'altra, ma noi sappiamo che f x y uguale a meno f di y x, quindi tutte si annullano, e quindi questo oggetto è uguale a zero, quello che vedete qui. Quindi mi ritrovo con questa sommatoria, questo oggetto in cui avevo t è uguale alla sommatoria in cui invece di avere y appartenente a t o y appartenente a v, grande. Quindi, questo me la sono riportata di qua, perché la dimostrazione è un po' lunga, allora cosa ho fatto? Stesso trucchetto di prima, ho sottratto meno s, quindi mi sono tolto s dall'insieme a s, grande, e l'ho messo qua. È semplice, cioè qua ho messo s fisso, ok, e quindi ho semplicemente estratto quella parte. Poi, questa è una sommatoria con due, questa qua che vedete qua, è una sommatoria con x appartenente a s meno s, e y appartenente a v. Posso trasformarmela in due sommatorie, una che finisce qua e una che finisce qua, sostanzialmente. E però, fatemi cancellare questo che fa poco, fa conclusione, questo oggetto, noi sappiamo cos'è, la sommatoria degli archi uscenti da un nodo x, tranne la sorgente, questo s meno s. Quindi, è uguale a 0, per cosa? Conservazione del flusso. Se vi ricordate, diceva, la somma degli archi uscenti da un nodo deve essere uguale a 0, tenuto conto dell'antisimmetria. Quindi, quello che otteniamo è che tutto questo sparisce, e mi ritrovo con questo oggetto, che però è la definizione del valore del flusso, ovvero la somma del flusso che esce dalla sorgente. Quindi è uguale a f, che è quello che volevamo dimostrare. f di st è uguale al valore del flusso. Quindi, qualunque taglio vi venga in mente, siete sicuri che il valore del taglio è uguale a f. Allora, ulteriore lemma che ci serve poi, e dopo con questi lemma nella dimostrazione ci metteremo un attimo, il flusso massimo è limitato superiormente dalla capacità del taglio minimo, ovvero il taglio la cui capacità è minore fra tutti i tagli. Cosa significa? Allora, prendiamo per esempio questo taglio qua. ha come capacità, scrivo C, uguale a 10, perché qui vedete non ho il flusso, ho solo capacità. E quindi ho un 2, un 8, la capacità è 10. Se io prendo questo taglio qua, la capacità è 7. Se io prendo questo taglio qua, ho 7 più 2, più 4, addirittura 13. Però quello che sto dicendo è che siccome il flusso è limitato dalla capacità, se c'è un taglio più basso, quello ha un limite superiore alla capacità di quel, limite superiore, scusate, al flusso massimo di quella rete. Vediamo la dimostrazione. Volevo solo farvi notare che se prendete questo tratteggiato, fatemi ripulire, vedete che gli archi che vanno da questo insieme S, questo di qua, all'insieme T di qua, sono solo due, perché tutti gli altri sono in direzione opposta, e questo ha un valore di 4, questo ha un valore di 2, quello ha un flusso di capacità, scusate, è un taglio con capacità 6, che è più basso di 13, è più basso di 10, è più basso di quello che avevo calcolato, è il più basso che c'è, quindi noi da questo teorema sappiamo che F star è minore o uguale di 6, però dobbiamo dimostrarlo il teorema, l'emma, ok? Questo ci dice sostanzialmente che trova un taglio molto piccolo e quello ti dirà qual è la capacità massima che puoi portare da una parte all'altra. Allora, la dimostrazione è così. Allora, la prima parte dovrebbe essere abbastanza intuitiva. Il flusso attraverso un taglio deve essere minore o uguale della capacità attraverso lo stesso taglio. Perché? Semplicemente perché il flusso attraverso un taglio è definito così, la capacità attraverso un taglio è definito così, noi sappiamo che per qualunque XY F di XY è minore o uguale di CXY, e questo è vincolo sulla capacità, quindi la loro somma è minore e quindi F di ST è minore o uguale di C di ST. Poi sappiamo che il flusso che attraverso un taglio è uguale al valore del flusso, questo l'abbiamo visto nell'emma, quindi il valore del flusso è limitato superiormente dalla capacità di tutti i possibili tagli. Perché? Perché noi sappiamo che F è uguale a F di ST e questo sappiamo essere minore di CST, minore o uguale, scusate, qualunque sia il taglio. Quindi F è minore o uguale di C di ST. Quindi noi sappiamo, grazie a questo lemma, che un modo per risolvere il problema sarebbe quello di cercare il taglio minimo. Vi ho detto che i problemi sono duali, significa che in realtà quando trovi la soluzione per uno, trovi la soluzione per l'altro, nel senso che se io trovo un flusso massimo, posso anche farvi vedere come è fatto il taglio minimo, anzi ve lo farò vedere. Quindi ho risolto due problemi. Ci sono dei problemi che sono basati sul taglio minimo, piuttosto che il flusso massimo. Quindi l'ultimo teorema, e dopo passo ad un altro argomento, ma questo era avanzato dalla volta scorsa, diciamo, è questo. Ma noi in realtà ci interessa un po' questa parte, la prima e la terza, perché ci dice che c'è un'associazione molto stretta fra il taglio minimo e il flusso massimo. In realtà, dal punto di vista dell'algoritmo, ci interessa il secondo punto. Cioè, quando non c'è più nessun cammino aumentante, cosa devo fare? Ho trovato il minimo, scusate, il massimo, oppure no? E ce lo dice questo teorema. È fatto da tre affermazioni che sono equivalenti. Quindi, 1 se è solo se, 2, 1 se è solo se, 3, e 2 se è solo se, 3. Però noi le dimostriamo circolarmente, perché è facilissimo, e otteniamo la dimostrazione di tutto. Allora, la prima è F è un flusso massimo, non esiste nessun cammino aumentante per G. E qui si fa per assurdo, è banale, se esistesse un cammino aumentante, ma allora aumenta. vuol dire che il tuo algoritmo non ha finito. Quindi, se il flusso può essere aumentato, non è massimo, ma questo è assurdo, quindi, questo è facile, se F è un flusso massimo, non esiste un cammino aumentante per G, tenuto conto della rete residua di F. Se non esiste nessun cammino aumentante per G, allora esiste un taglio minimo S,T, tale che il valore del taglio è esattamente il valore del flusso che ho trovato, F. Come facciamo a dimostrarlo? Allora, ricordatevi che non esiste un cammino aumentante, quindi nella rete residua la sorgente si è separata dal pozzo, sono disconnesse, perché se non fossero disconnesse ci sarebbe un cammino aumentante, quindi non è più possibile andare dalla sorgente al pozzo. Quindi, io posso misurare tutti i nodi che sono raggiungibili dalla sorgente, cioè identificarli, e sono questi, vedete, io in questa rete residua che ho preso da un esempio precedente, posso ancora, tramite questo arco, andare in C da A e posso anche andare in E da C, ma poi basta, perché tutti gli altri archi sono all'indietro. Quindi questo costituisce il mio S grande, tutti i nodi che sono raggiungibili nella rete residua da S piccolo, e tutto il resto, perché V uguale, cioè scusate, V uguale V meno S, tutto il resto e sono tutti i nodi che non sono raggiungibili. Quindi questo è un taglio, questa è la prima parte, la seconda parte è questa. Perché T non è raggiungibile da S in G di F, tutti gli archi XY che hanno un lato in S grande e l'altro lato in T grande sono saturati. Cosa vuol dire? Vuol dire che F di XY è uguale C di XY. Se così non fosse, come F di XY, se non è uguale, allora è minore, allora il flusso residuo sarebbe di XY, sarebbe C di XY meno F di XY e sarebbe maggiore di zero, perché c'è del flusso residuo. ma se c'è la possibilità di andare a S a T allora esiste un cammino aumentante, ma questo è assurdo, quindi deve essere così. Tutti gli archi, vedete questo zero, questo zero sono saturati perché ho consumato tutto quello che potevo consumare da lì. A questo punto noi sappiamo che il valore del flusso del taglio è F uguale la sommatoria dei flussi uscenti da S grande. Ne segue che la sommatoria del flusso è uguale alla sommatoria delle capacità che è C di S T. Ok? Questo perché tutti gli archi uscenti sono saturati, l'abbiamo appena detto, è per questa cosa qua. Ok? Quindi sono uguali. Quindi ho trovato un flusso che ha esattamente uguale al valore della capacità di S T. Ma siccome S T è minimo, scusate, siccome F è uguale a C di S T e per ogni taglio S' T' abbiamo che F è minore uguale di S' T' per il lemma della capacità del taglio che avevo fatto all'inizio, allora se ho trovato uno esattamente uguale, devono essere tutti minore uguali, allora S T deve essere minimo. Quindi questo mi dimostra 2 implica 3. Allora, cerchiamo di raccapezzarsi e poi mi dite se ci sono dei dubbi. Noi abbiamo detto tramite questo che tutti gli archi che vanno da S a T sono saturati, quindi tramite questo sappiamo che questa uguaglianza è valida perché tutti gli archi che passano attraverso sono saturati quindi hanno lo stesso valore del flusso. Quindi sappiamo che F è uguale a C di S T. Ma questo S T non è un taglio a caso, è il taglio che otteniamo quando non ci sono più cammini aumentanti. quindi è il taglio che otteniamo dal termine del nostro algoritmo. Quindi quello che succede è che tra tutti i tagli possibili questo è un valore che è esattamente uguale alla capacità di S T e siccome sappiamo che tutti i tagli possibili devono avere una capacità minore uguale di qualunque taglio allora quel valore deve essere il il valore minimo fra tutti i tagli. che è quello che volevamo dimostrare qua. Infine se esiste un taglio S T tale che C di S T uguale F allora F è un flusso massimo perché per un qualunque flusso F un qualunque taglio S T vale la relazione F minore di C S T il flusso che soddisfa F uguale C di S T deve essere massimo perché tra tutti i flussi possibili noi sappiamo che c'è un limite superiore tra tutti i flussi possibili ho trovato quello che è esattamente uguale al limite superiore quindi deve essere quello massimo perché non posso salire oltre il limite superiore e questo conclude la dimostrazione oltre